di crescente tensione, le parole del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, risuonano forti e chiare. L'Iran non si tirerà indietro. Utilizzeremo tutti gli strumenti disponibili per rispondere in modo deciso, avvertito, riferendosi all'incredibile audacia dell'attacco israeliano contro i siti militari iraniani. Ogni azione in guerra ha reazioni impreviste, e lo stesso Baghaei ha sottolineato che la risposta varierà a seconda della gravità dell'attacco. Ma le dichiarazioni non si fermano qui. Il Maggiore Generale Hussein Salami, comandante delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di quattro soldati. Definendo l'aggressione israeliana un atto malvagio e illegittimo, le sue parole avvertono chiaramente, le conseguenze saranno amare e inimmaginabili. Con l'aumentare delle tensioni, l'Iran si prepara a una risposta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Gli esperti sono in allerta, consapevoli che i risultati di tali azioni potrebbero avere ripercussioni di vasta portata. La domanda è, quale sarà il prossimo passo in questo drammatico scontro? La risposta si cela dietro l'angolo, pronta a rivelarsi in un contesto che nessuno può prevedere. Grazie. 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 Grazie.